Evidente che è morto il bipolarismo destra-sinistra, c'era un altro in gestazione avanzata, quello tra europeisti ed anti-europeisti, contrapposizione dalla quale i 5 Stelle si sfilano. Anti-europeisti non significa nulla più, noi dobbiamo capire quale Europa vogliamo creare. Per noi l'Europa deve cambiare, può cambiare e principalmente su un tema fondamentale che è l'immigrazione. È assurdo che ci sia un regolamento europeo che dica che se in Italia arrivano i migranti il problema è dell'Italia. 100 arrivano in Italia, 97 devono andare negli altri paesi, 3 restano, li identifichiamo e capiamo se possano restare o debbano essere impatriati. Ci si divide su come affrontare i problemi ma la distanza vera è di metodo.